Sono Antonio Feint, sono un atleta del costruttivo Carabinieri. La mia specialità è l'ancio del 08. L'anno scorso ho lanciato il 7794, che è il mio personale. Quest'anno gli obiettivi sono sfondare il muro di 80 metri, che è il muro per essere un atleta anche a livello fuori da quello che è la norma. Da due anni a questa parte mi sto integrando con i prodotti dell'Abeco e mi sto trovando molto bene, soprattutto per il recupero degli allenamenti e in preparazione alla gara sono uscito a vedere dei risultati su tutto il livello di apporto energetico. Cosa dire, ho scoperto che devo bere di più, quindi a questo ho aggiunto l'acqua, che non è una cosa da poco. e ho capito che molte volte si tende ad integrare utilizzando tanti prodotti e ci si dimentica di quello che è l'essenziale, che poi in realtà è molto efficace.